Benvenuti, benvenuti a una puntata di oggi di Stampa e Vangelo, una puntata che dedicheremo alla Rai TV, una Rai TV che proprio pochi minuti fa ha avuto l'ardire con la conduzione da parte di Franco Di Mare della trasmissione 1 mattina di attaccare i polacchi che hanno dichiarato la loro fede attraverso un rosario ai confini della nazione sabato 7 ottobre. Bene, oggi durante la trasmissione 1 mattina c'è stato un violento attacco del conduttore Franco Di Mare alla iniziativa polacca. E allora oggi dedicheremo la puntata a raccontare come si sta spendendo la montagna di denaro garantita dalle famiglie italiane per fare propaganda anticristiana e antiumana all'utero in affitto alle ragazze del 68 e adesso attaccando in maniera così proditoria durante la trasmissione 1 mattina proprio pochi minuti fa il rosario dei polacchi del 7 ottobre che oggi tra l'altro trovate raccontato sia come apertura del quotidiano la croce sia come lancio delle iniziative del 13 di ottobre quando in molti anche del popolo della famiglia come dice Corrado lo faremo anche noi ci stiamo organizzando per una diretta facebook molti del popolo della famiglia si uniranno alle preghiere e rosari che si terranno in occasione del centenario dell'ultima apparizione mariana a Fatima si terranno appunto sabato prossimo scusate venerdì prossimo venerdì 13 di ottobre a 1 mattina lo ripeto pochi minuti fa attacco brutale contro i cattolici polacchi da parte del conduttore televisivo pagato con i soldi delle famiglie italiane Franco Di Mare nella nota trasmissione 1 mattina ma non è l'unica della trasmissione di cui parleremo oggi saluto Giovanni Fiori il nostro candidato presidente al municipio Roma 10 che sta lavorando sul territorio per raccogliere il massimo numero di consensi saluto Guido Pianeselli che ha già segnalato anche lui l'iniziativa improvvita del giornalista conduttore di 1 mattina Franco Di Mare durante la diretta di oggi contro il rosario dei cattolici polacchi saluto Samuele Zerbini Francesca Bruschi ho visto Giovanna Arminio Alberto Agus Sicilia e Sardegna unita ecco Mirko De Carli che è sempre impegnato a far crescere lo spirito di Riolo Terme e oggi firma l'editoriale del quotidiano La Croce è proprio dedicato al tema dei cattolici polacchi e del rosario pronunciato sabato 7 ottobre Massimo Cucciolotti dice è l'ora del popolo della famiglia o cambiamo o moriamo mi ha dato Samuele Zerbini un amico di Rimini c'è Alessandro Allara mia mamma Luisa di Nolfi rientrata da un giro che ha appena fatto in Toscana c'è Angela Cicomonte del pdf di Torino Davide Toccoli Romana Cordova un abbraccio tramite romana anche Andrea Sofer non c'è Emiliano Fumaneri c'è Danilo Bassan del pdf di Padova Paul Freeman dice giustamente usare il servizio pubblico per veicolare il livore di ideologia è rubare frodare il patto sociale fiscale con gli italiani di questo parleremo oggi c'è Laura Terrana c'è Alberto Agus che parla di Michela Murgia un altro argomento che attraversiamo oggi Guido Pianeselli ricorda che c'è diretta anche sul gruppo preghiera popolo della famiglia per le iniziative del 13 ottobre come vedete il popolo della famiglia si unisce a una serie di iniziative sul territorio segnalato quella di Don Mirco Bianchi perché è un'iniziativa sul web che è stata hackerata dagli islamici Angela Ciconte ci segnala quella al Carmelo di Moncalieri c'è il gruppo famiglia il gruppo preghiera del popolo della famiglia che organizza il rosario ore 17 e 30 del 13 di ottobre Silvia mi chiede di sorridere oggi guarda sono un po' incazzato per questa storia di Uno Mattina che mi ha messo di malumore perché quando vedo Rai 1 che è la rete diciamo così che dovrebbe essere la rete delle famiglie uno mattina e la trasmissione delle famiglie che si accendono la televisione così mentre organizzano l'andata a scuola dei figli o mentre hanno dei pochi minuti prima di andare al lavoro vedere fare un attacco così brutto a un evento così bello come è stato il rosario dei dei cattolici polacchi mi ha davvero messo di cattivo umore l'ho ammetto c'è Vladimiro Campello del pdf del friuli Venezia Giulia Giampiero Bonfanti pdf Monza c'è Luciano che mi segnala un terremoto in Cile del magnitudo 6.2 molto c'è Salvatore Asero della pdf Sicilia anche Repubblica ha scritto che i cristiani hanno fatto i rosari in Polonia nessuno a livello medievale dice Roberto Angius bruttissimo commento anche di Paolo Rodari il vaticanista di Repubblica contro i cattolici Angelo De Santis fa zig zag nel traffico ma ci segue comunque è bello questo meccanismo radiofonico del mattino diciamo così con cui seguite Stampe e Vangelo c'è Francesco Iacobini Gloria Gallarelli Maria Verita Boddi che dice dateci dentro con le condivisioni e l'invita amici alla diretta bravissima Maria Verita come sapete perché parleremo di cose molto importanti anche di come si spendono i soldi del contribuente attraverso la RAI se fate seguire più possibile con mi piace condividi e invita amici questa diretta c'è Augusto Caratelli del pdf Lazio Emanuele Robue Don Francesco Colamonaco sacerdote che protegge il pdf della Puglia diciamo così prega per noi ci sostiene pdf pugliese c'è Alberto Leo il capolista di Popola Famiglia alle elezioni a Roma 10 c'è Andrew Clemens dall'Australia signori siamo davvero i tanti Gloria Gallarelli va al volo a accompagnare i figli all'asilo saluto Alex Zino Finori sempre più protagonista diciamo così anche della creatività del Popola Famiglia c'è Efri Vaccari Giulia Vigianò Vittoria Bolacci il pdf di Forte dei Marmi Francesca Bruschi l'ho già segnalata andiamo a leggere il Vangelo di oggi prima di tutto il Vangelo di oggi bellissima pagina di Vangelo molto nota c'è anche Marco Fasulo che dice conferenza episcopale polacca è un faro per la chiesa mondiale e non si offendono i cristiani a Franco di Mare abbiamo capito questo concetto con i soldi nostri non offendi i cristiani non offendi il rosario non offendi Maria grazie con i soldi dei contribuenti delle famiglie italiane che vi venite a prendere direttamente in bolletta elettrica per pagare i sontuosi stipendi di Franco di Mare Franco di Mare deve fare attenzione quando parla dei cattolici quando parla di Maria e quando parla del rosario saluto Danilo Leonardo dirigente di Rai 3 è dove parleremo oggi proprio di Rai 3 quindi insomma sarà qualcosa da dire Silvia Lucchetti come al solito arriva per ultima e dice perché che ha detto perché che ha detto ha detto peste e corna diciamo così del rosario detto dai cattolici polacchi dicendo che la Maria che hanno pregato non è la Maria del Vangelo vabbè c'è Giuseppe Brienza c'è Orfea Bugatti vogliono imbavagliarci ma non ci riusciranno non ci riusciranno perché noi intanto abbiamo il Vangelo al mattino a dare forza alla nostra giornata leggo la pagina di oggi che il Vangelo secondo Luca il capitolo del decimo capitolo 38 42 5 i versetti di oggi in quel tempo Gesù entrò in un villaggio una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa essa aveva una sorella di nome Maria la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava le sue parole Marta invece era tutta presa dai molti servizi pertanto fattasi avanti disse signore non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire dille dunque che mi aiuti ma Gesù le rispose Marta Marta tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta la parola di oggi è davvero meravigliosa semplificativa e illumina la nostra giornata la nostra giornata in cui noi siamo Marta siamo impegnati in mille cose mille cose che ci distraggono da ciò che conta davvero da ciò che conta davvero siamo impegnati davvero in mille cose per questo per me è importantissimo anche se qualcuno me lo contesta addirittura cominciare la mattinata insieme a voi leggendo il Vangelo per ricordare dunque davanti alle mille cose che faremo oggi che una sola è quella che conta la parte migliore come dice Anna Ciappa per cui vabbè noi siamo Marta e Gesù è affettuoso con Marta è quel suo ripetere il nome Marta Marta è un gesto d'affetto è una carezza una sorta di pacca sulla spalla di comprensione verso questa donna operosa che fa di tutto per far star bene Gesù nella sua casa magari appunto mettendosi a servirlo a fare le cose insomma piuttosto che ad ascoltarlo e dunque dentro quella ripeto ripetizione del nome la reiterazione della parola Marta 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 c'è un atto di affetto il rimprovero è un rimprovero dolce ma per noi è un messaggio di estrema chiarezza non fatevi prendere dalle diecimila cose distraendovi da ciò che conta davvero da ciò che conta davvero Priscavegni prende in parola Gesù Cristo e va subito a messa e rivede stampa il Vangelo più tardi un saluto anche a Cristina Zaccanti dice cominciamo uniti dalla testimonianza della buona notizia Paolo Ruotolo scegliamo la parte migliore Angelica Bosio Manila Mattei Margherita Caruso Alberto Olivieri allora abbiamo iniziato parlando di Rai stamattina attacco di Franco Di Male della trasmissione 1 mattina conduttore della trasmissione 1 mattina ai polacchi che hanno recitato il rosario ai confini della loro terra noi abbiamo detto ci uniremo come popolo e famiglia alle iniziative sul territorio il 13 ottobre cioè venerdì per le iniziative legate al centenario dell'ultima apparizione Mariana Fatima quello che davvero non sopportiamo è l'utilizzo dei soldi dei soldi pubblici della Rai TV pagati dalle famiglie italiane con addirittura trattenuta in bolletta elettrica per fare propaganda a ciò che è orrendo diciamo così mi sono imbattuto in 46 minuti 46 minuti di trasmissione affidata da Daria Bignardi ormai ex direttore di Rai 3 che però prima ha disseminato quattrini pubblici per far lavorare le sue amiche l'altra stasera c'era le ragazze del 68 firmata da Cristiana Mastopietro autrice delle invasioni barbariche tutto così prima c'era la trasmissione quella unioni civili le fissazioni di Daria Bignardi tutte caratterizzate peraltro come questa trasmissione chakra condotta e affidata alla conduzione dell'amica di Daria Bignardi Michela Murgia una scrittrice che fa l'altro si è anche vantata di essere laureata in teologia animatrice dell'azione cattolica che ha fatto 46 minuti di spot a lutro in affitto che è una pratica vergognosamente illegale diciamo così stigmatizzata anche dalla legge e vergognosa dal punto di vista umano Giuseppe Brienza intanto ci fa sapere che oggi è pagina 4 della croce c'è l'intervista di Sara Deodati all'ordinario militare Lusitano proprio sul tema di Fatima e della Madonna per restare lì però dicevamo dentro questa vicenda dell'utilizzo della Rai soldi Rai la gestione Daria Bignardi è particolarmente scandalosa perché sono soldi proprio affidati agli amici la trasmissione lo ripeto ragazze del 68 tutta una pippa su prima serata eh su quanto erano belle e brave le ragazze ora ormai donne anziane del 68 la trasmissione sull'Unione Civili sempre prima serata e adesso affidata una trasmissione settimanale inguardabile dal punto di vista televisivo ehm caratterizzate tutte da disastri in termini di ascolto questa trasmissione di cui parliamo Chakra che ha fatto lo spot al luto in affitto per 46 minuti 46 minuti ehm ha fatto il 3 per cento d'ascolto il 3.1 per la precisione il 4 per cento hanno fatto le ragazze del 68 come capite ampiamente sotto una media di rete vorrei sapere quanto costano al contribuente le produzioni per esempio affidata a questa pesci production che eh è quella di eh Cristiana Mastropietro la ehm l'autrice delle invasioni barbariche di eh di Italia Bignardi Danilo Leonardi dice con vendola che parlava di produzione della vita e nemmeno una domanda vera non una domanda vera la frase più ripetuta l'ho calcolata di Michela Murgia durante i 18 minuti di comizio lasciati a vendola è stata sono d'accordo sono d'accordo capito questa è la frase ripetuta c'è Nicola Di Matteo intanto il nostro coordinatore nazionale che salutiamo Domenico Gallo dice Chakra il nome è un programma fatevi dire da qualunque esorcista cosa ne pensa del Chakra Gloria Gallarelli dice senza vergogna ma la cosa più clamorosa come ripete Alex Zino Finori è che questi sono dei flop dei clamorosi flop il 3% fa Michela Murgia il 3% per farci 46 minuti di comizio sull'utro in affitto con le interviste alla donna capa che ha l'endometriosi e che quindi è come se avesse partorito lei no ha solo pagato non ha partorito alla donna che diceva no io voglio dare un dono è un dono che però è pagato bambino trattato come cosa e il finale semplificativo secondo me azzeccato per una volta per un'enterogenesi dei fini in cui dicono il libro che serve a spiegare tutto questo è Pinocchio un bambino che è una cosa che poi diventa persona ed è per certi versi proprio così oltre al fatto che sono tutti Pinocchio quelli che hanno parlato in quella trasmissione tranne una povera femminista che si è andata lì a difendere perché aveva pubblicato un libro sull'argomento con risultati molto di scarso rilievo Danilo Leonardi ricorda il nome di questa società pesci combattenti incapaci molto ben introdotti esattamente begli appaltini a pesci combattenti amici della Bignardi amici degli amici e così ci gestiamo i soldi pubblici voi pagate voi famiglie italiane nel vostro canone in bolletta e loro ci fanno le trasmissioni con cui ci diventano ricchi e in più ci fanno la testa così di quanto era bello il 68 e come è bello l'utero in affitto e attaccano i cattolici che fanno il rosario in Polonia capito come funziona capito come funziona impressionante questi 46 minuti in cui vieni da ridere ragazzi in cui Nicchi Vendola con il suo comizio è riuscito a tirare fuori un'altra fregnaccia sesquipedale dicendo che il neonato non è un dato biologico ma una straordinaria avventura del linguaggio ma perché gli facciamo fare questa supercazzola a questi la straordinaria avventura del linguaggio ma che cazzo dici Nicchi Vendola straordinaria avventura del linguaggio non un dato biologico il neonato è una persona è un bambino nato da una mamma che è strappato in virtù dei tuoi denari dei tuoi denari facendo leva sulla condizione e bisogno di questa donna è inutile che dici puttanate hai solo fatto leva sul fatto che questa donna di soldi avesse bisogno perché se non ne aveva bisogno se era ricca col cavolo che si vendeva i figli a te lo capisci o no che è evidentemente così che è un concetto evidente e naturalmente chiaro a tutti che hai solo messo quattrini i tuoi quattrini che ti sei fatto facendo il politico a spese dei contribuenti italiani e gliel'hai dati a una donna che ne aveva bisogno per mandare al college i suoi tre figli negli Stati Uniti d'America in California e lo hai anche detto durante l'intervista che prima sei andato in Canada dove c'era la cosiddetta gestazione gratuita gratuita manco per niente quando la murgio ha detto ma no non c'è neanche il rimborso tu hai dovuto precisare e no il rimborso c'è ma lì non era scattato il click dice vendola in questa intervista in Canada e allora siamo andati in California dove il bambino costa 200.000 dollari e dove la signora che prende i suoi 30.000 per fare quella gravidanza li usa per pagare il college dei figli c'era già tre perché altrimenti non ce la fa perché una donna è la working class americana che si è impoverita e poiché si è impoverita è costretta a vendersi figli a te non c'è nessun'altra motivazione se non un elemento di bisogno di questa donna e noi abbiamo fatto 46 minuti di servizio pubblico in cui abbiamo detto che è una pratica che è illegale in Italia e di cui è illegale anche la pubblicità in Italia perché i due anni di carcere e il milione di euro di multa non sono solo per i coloro che fruiscono dell'utero in affitto ma anche per coloro che pubblicizzano l'utero in affitto è reato, non si può fare, nessuno ha detto una parola solo adesso a stampa in Vangelo sentite dire che quella trasmissione è un reato non è apologia di reato, è reato essa stessa Danilo Leonati c'è apologia di reato la pubblicità all'utero in affitto è reato 46 minuti di puttanate senza senso in cui la Burge ha detto dieci volte io non dico utero in affitto perché utero in affitto è un'espressione estremamente violenta ma è l'espressione vera perché affittano persone e comprano bambini questo è il meccanismo è un povero regista, peraltro gay, che l'ha messo in scena evidentemente questo tipo di meccanismo con questo film Una Famiglia, l'hanno pure pecchiato adesso è esecrato dalla comunità LGBT perché ha detto la verità sono bambini venduti, sono mamme che vengono comprate perché c'è una condizione di bisogno di quelle mamme io non capiamo o moriamo faccio un capitolo intero sull'utero in affitto in cui racconto tutto come comincia dal primo bambino nel 1986 è sempre e solo una storia di compravendite, di imbrogli, di estremo dolore Danilo Bassan ricorda legge 40 del 2004, articolo 12,6 è il reato di pubblicizzazione del luto in affitto se non fosse questo ripeto, provate a prendere il capitolo di o capiamo o moriamo sull'utero in affitto è ripercorre 30 anni di meccanismi dal primo bambino concepito con questa pratica che inevitabilmente attiva un meccanismo di battaglia legale che dura anni e guardate la storia, leggete tutta la storia e poi leggete come procede questa pratica procede l'escalation, la legittimazione che viene fornita socialmente attraverso i matrimoni omosessuali perché sono i matrimoni omosessuali che legittimano la pratica vi diranno, la usano gli etero certo la usano gli etero ma la legittimazione sociale passa attraverso il matrimonio omosessuale perché evidentemente due gay maschi non hanno alcuna possibilità altra se non quella per avere i loro figli come li chiamano loro cioè il fatti da loro artificialmente vedete pure come si fa a prendere un ovulo da una ragazza giovane con quali meccanismi lo leggete in O capiamo o moriamo a proposito sabato ci vediamo al teatro Sala Umberto mi raccomando alle 11 con Costanza Miriano padre Maurizio Botta Marco Scicchitano è il sottoscritto per la presentazione di O capiamo o moriamo quella che per una volta riunisce dopo anni sullo stesso palcoscenico i protagonisti i quattro moschettieri dei falsi miti di progresso per un solo giorno sabato 14 ottobre ore 11 teatro Sala Umberto via della Mercede 50 Alberto Mori parla di pratica amorale che dovrebbe essere abolita in ogni stato del mondo bisogna fare la messa al bando universale questa è la proposta di O capiamo o moriamo e anche la proposta del popolo e della famiglia la messa al bando universale della pratica dell'utero in affitto è arrivato anche Salvatore Di Marino che salutiamo insieme a Barbara Giacovelli quello che non sopportiamo davvero è che ci vogliano prendere per il culo questa è veramente una cosa che non sopporto il tono di questa murgia che vuole fare la professorina su un fatto dicendo subito no no io sono a favore proprio lo dichiara in inizio neanche fa la conduttrice che tenta di tenere più posizioni niente la conduttrice dichiaratamente a favore della pratica della maternità surrogata non bisogna dire utero in affitto è un'espressione estremamente violenta ma che vuol dire espressione estremamente violenta se è totalmente vera Nicky Vendor dice io non sono andato in America per affittare un utero sei andato ad affittare un utero Dalino Nonardi dice il dato statistico del ricorso all'utero in affitto da parte dei gay è in forte crescita è ovvio un business colossale che viene spinto da testimonial globali come i vari Ricky Martin Elton John ed è un mercato io capiamo o moriamo vi raccontiamo come funziona il mercato Elton John il pacchetto VIP in California per il bambino costa 500 mila dollari il bambino di Nicky Vendor non ne sarà costato meno di 200 mila fra tutti i costi meno che vai sono 175 mila in California fate una media sono 200 mila a bambino leggete le progressioni che scrive non capiamo o moriamo è un mercato da miliardi e miliardi di dollari è il nuovo petrolio hanno costruito sulla cosa più bella del mondo che era fare l'amore e da cui nasceva un bambino la cosa più bella e naturale del mondo più bella e naturale perché è gratuita hanno costruito un business che vale il business del petrolio perché una volta che nasceranno un milione di bambini con questa pratica e non siamo lontani purtroppo da avere questo tipo di risultati a livello mondiale saranno un business a 200 miliardi di euro è chiaramente un business a 200 miliardi di euro non lo non lo scavi più non lo batti più Ninarello dice la Murgia già domenica mattina era a Rai 1 a propagandare la sua come trasmissione il conduttore a un certo punto le ha detto lasciate stare almeno Pinocchio infatti Don Francesco Colamonaco non capiamo o moriamo c'è tutto l'essenziale per mobilitarsi contro l'abominio che sfigura la sovranità della famiglia il diritto dei bambini a nascere a crescere con la mamma e il papà Pierluigi Cordoba cosa ha detto il signor Franco Di Mare Franco Di Mare ha attaccato i cattolici che hanno detto il rosario in Polonia Antonio Brescia dice non bisogna dire la verità potrebbe offendere certo saluto Maria Antonietta Carosi saluto anche Antonio Soro io vi chiedo se potete davvero vi fare un mi piace un condividio a questa diretta a invitare gli amici facciamo sapere cosa fanno con questi soldi che sono i soldi nostri ce li prendono dalla bolletta telefonica e poi pagano a milionate perché se io dico uno mattina se io dico Rai 3 la gestione con l'area Bignardi con Stato Civile con le ragazze del 68 con Chakra stiamo parlando di milioni e milioni di euro che vanno a fare propaganda per cambiare la testa della gente per fortuna poi la Murcia fa il 3% d'ascolto che è un flop clamoroso che dimostra che questa roba è anche professionalmente televisivamente robaccia roba che nessuno guarda però è rimasto con ilice Alessandro Albertozzi solo il popolo la famiglia a fare questo e a difendere i deboli Alex Zino Finorice questa santa virulenza è necessaria grazie ci saranno pure polemiche perché ho detto un paio di parolacci saluto Mauro Chialastri saluto Massimo Pistoia mi chiedo se azione cattolica prende le distanze da Michela Muggia ma figurati stiamo aspettando voglia aspettare c'è Chiara Piovesan c'è Valeria Annecchino c'è Massimo Marazzo c'è Angelo Bottone che ci segue da Dublino Diana Villavecchia dice io non pago la Rai piuttosto mi faccio il bollettino postale e non ho paura Magnese Mascellari dice Murgia che trasmissione era la trasmissione si chiama Ciacra e Venonda il sabato su Rai 3 una delle trasmissioni messe in palizzesto da Daria Bignardi una serie di trasmissioni che ho citato le ragazze del 68 Stato Civile Ciacra tutte affidate alle amiche diciamo così agli amici e alle produzioni amiche della Bignardi soldi pubblici per fare trasmissioni ideologiche ideologiche e nel caso di questa trasmissione in particolare di Ciacra anche una trasmissione assolutamente illegale perché come ha ricordato Danilo Bassan secondo l'articolo 12,6 della legge 40 del 2004 è vietato anche pubblicizzare l'utero in affitto e questi 46 minuti che vi ho citato sono stati invece 46 minuti di spot all'utero in affitto all'interno dei quali per 18 minuti c'è stata la predica di Nichi Vendola con la conduttrice dell'azione cattolica laureata in teologia insomma tutta la roba nostra come al solito che aveva come frase caratteristica davanti alle parole di Nichi Vendola sono d'accordo ecco qua sono d'accordo questa è stata la frase con cui si può ricordare la fondamentale conduzione di Michela Murgia davanti a Nichi Vendola ah poi c'è Gloria Gallarelli che ricorda pure il bacio lesbo tra Ilari Blasi e Belen al grande fratello davanti a milioni ovviamente di telespettatori per combattere l'omofobia e vai anche lì con visibilità anche poi quello che interessa è solo questo visibilità attenzioni contratti soldi solo questo ragazzi solo questo Alessandra Bertozzi con Roberto Mura da Pisa erano arrivati fino al Forte dei Marmi a vedere il nostro Mario un abbraccio anche alla loro bellissima figlia che si è venuta a fare una foto con me complimenti anche per la bellissima proprio dagli occhi si vede loro figlia Diana Villavecchia ha detto ho letto poco fa che una coppia che è negli Stati Uniti ha ucciso la bambina da Udani in affitto perché piangeva addirittura questo andrò a vedere la notizia è arrivato anche Raffaele Adinolfi c'è Don Massimo Lapponi ora non posso controllare ma mi sembra proprio che Michela Murgia sia un esponente di rilievo delle teologhe italiane mi pare di sì c'è Anna Bertorelli c'è Cristina Zaccanti Totti non reagisce a Ilari Blesi che bacia Belen che bella figura ormai ragazzi tutta sta roba è come dice Bartolomeo Notarangelo programma da stirco ecco programma da stirco mi sembra una bella definizione molto chiara che possiamo fare dice Anna del Guerra organizzare la forza del popolo della famiglia Anna è l'unica salvezza possibile la RAI è governata ancora dalla politica speriamo che avendo un consenso importante alle prossime elezioni possiamo nominare un consigliere dell'amministrazione in RAI che controlli e faccia valere anche il nostro punto di vista è l'unica strada quando io dico che ciò che facciamo come popolo della famiglia è l'unica strada ha anche a che fare con questi elementi Anna del Guerra e tutti noi sappiamo dobbiamo sapere che per avere voce in capitoli in RAI dobbiamo avere rilevanza politica cioè dobbiamo avere consenso il popolo della famiglia deve avere questa ossessione vorrei dire perché se concentreremo questo obiettivo quello del famoso 3% per entrare in Parlamento un milione di voti noi avremo voce in capitolo anche sulla gestione della RAI servizio pubblico radio televisivo altrimenti continueremo a parlare di nulla a fare chiacchiere a fare petizioni a fare gli autobus e tutte le cose che servono relativamente diciamo così dobbiamo fare politica mandare parlamentari in commissioni di vigilanza come dice bene questa è l'unica strada se vogliamo veramente incidere se poi vogliamo far finta e vogliamo salvarci l'anima ci sono 10.000 attività convegnistiche varie ovviamente se vogliamo fare qualcosa di operativo ci informiamo davvero facciamo convegni davvero ma li finalizziamo magari leggiamo capiamo moriamo che qualcosa serve e li finalizziamo tutte queste cose alla raccolta di consenso su un punto di vista altro che come dice Alex Zino Finori è il punto di vista di una fetta bella grande del nostro paese è l'unica strada poi facciamo fare le coalizioni carrozzone alla destra e alla sinistra facciamo dare grillo a chi crede che i grillini possano fare qualcosa ma noi a Roma ce ne siamo accorti di quello che possono fare possono fare solo lo schifo e poi ci proponiamo invece come alternativa ci proponiamo come alternativa di governo per questo paese e con la proposta alternativa andiamo spero davvero a governare questo paese nella maniera più efficace possibile Luigi De Novellis dice alleanze non faremo alleanze faremo la lista del popolo della famiglia nei collegi nominali se ci sarà il Rosatellum come sul proporzionale e chiederemo agli italiani di votare il nostro simbolo di votare il simbolo del popolo della famiglia semplicemente questa è la strada con cui possiamo rendere alternativa la gestione anche del servizio pubblico radio televisivo chiunque voglia davvero e concretamente cambiare la storia italiana e la gestione dei soldi pubblici in Italia non può e non ha altra alternativa se non organizzare la presenza del popolo della famiglia sul territorio come dice Francesco Sanna cominciamo dal decimo municipio di Roma dove siamo impegnati nella campagna elettorale per Giovanni Fiori presidente chi ha amici qui faccia conoscere il nostro simbolo per Fiori presidente dice Francesco Sanna cosa fondamentale cominciamo da Roma municipio Roma 10 5 novembre 2017 facciamo vedere come siamo in crescita come movimento ci arriveremo secondo me intorno al 2% per fare poi lo strappo finale fino al 3% delle nazionali Antonio Soro chiede a Sassa di chi c'è mettiti in collegamento con Alberto Agus qui su Facebook anche è il nostro dirigente della Sardegna Roberto Amura dice finalmente un voto dato bene esattamente Roberto per contribuire alla causa del pdf chi vuole e chi può anche perché i candidati saranno solo gli iscritti al Popola Famiglia può andare sul sito del quotidiano la croce www.lacrocepotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e trova nel marketplace anche la possibilità di iscriversi al Popola Famiglia di prendere la tessera del Popola Famiglia ovviamente così contribuisce alla nostra attività sul territorio contretutto è costosa faticosa e dunque da una mano a tutta la fase che poi in campagna elettorale ci porterà a presentare le liste in tutta Italia in provincia di Roma a Fiano Romano attraverso anche Augusto Caratelli stiamo organizzando la presenza oltre la città di Roma nella provincia di Roma ci sono già molte realtà anche qui Nicola al coordinamento con Augusto Caratelli e il coordinamento comunque sempre con Nicola Di Matteo il nostro coordinatore nazionale NicolaRoma chiocciola hotmail.com Annita Bianchi dice per la prima volta voterò con ferma convinzione Monica Vitali dice viva il decimo municipio Giancarlo Azzeni dice Mario vieni a Cagliari invitatemi ad inolfi chiocciola gmail.com facciamo una presentazione di capiamo moriamo facciamo un'iniziativa e ci organizziamo a Cagliari sentite Alberto Agus e organizziamo un'iniziativa anche a Cagliari c'è qualche germe del pdf in Molise sì in Molise ci andrà tra qualche giorno credo Mirco De Carli Carolello Melillo puoi sentire magari Mirco De Carli qui su facebook contattarlo e anche in Molise ci sono i primi germi diciamo così i primi militanti del popolo della famiglia che stanno organizzandosi in vista delle elezioni politiche quindi ti consiglio Lello il contatto con Mirco De Carli Moreno dice del resto a destra sono pro bordelli a sinistra pro gender il Movimento 5 Stelle prende il peggio di tutte e due c'è solo il popolo e la famiglia bravissimo Moreno una gran bella sintesi dobbiamo contagiare in senso buono tutta l'Italia dice Nicola Ocello questo faremo saluto anche Laura Scalabrini che si è persa il bacio di Hilary Blasi con Belen Rodriguez cos'è c'è da preoccuparsi è la solita meccanismo già attivata in America dai vari baci di Madonna con le varie starlette americane copiato in Italia ovviamente tutto ricopiato però sempre con l'immagine del bacio saffico di due mamme che tutto sommato potevano risparmiarsi lo dico con grande franchezza d'altronde la tv ci ha afferto ieri il bacio saffico di Belen e di Hilary Blasi oggi l'attacco di uno mattina ai cattolici polacchi che fanno il rosario ai confini della propria nozione sabato c'è stata la trasmissione Chakra a fare 46 minuti di spot al luto in affitto sempre ai tre l'altro ieri un'ora di trasmissione in prima serata per esaltare le donne del 68 ecco Alberto Agus che si fa riferimento per Cagliari e anche per la Sardegna c'è l'amico di Sassari valla a recuperare Alberto che così la radicamento diventa presente in tutte le province della regione e organizziamo un'iniziativa sulla Sardegna in cui verrò volentieri per avviare anche tutte le procedure in vista della campagna elettorale noi siamo davvero l'unica alternativa come dice Alex Zino Finori saluto Maria Pia di Girolamo che è arrivata adesso vi chiedo un mi piace un condividi alla diretta per farla arrivare a più persone possibili io scappo perché oggi è un'altra giornata avete visto vi ho scritto sono poco social perché sto facendo il presidente operaio disegno grafico e mando a stampare volantini insomma le campagne elettorali hanno la brutta questione di far lavorare parecchio le persone e io per primo mi affianco agli amici che stanno lavorando sul territorio rimboccandomi le maniche e dunque vado a fare tutto ciò che c'è da fare in tipografia per stampare i volantini per Giovanni Fiori e per il simbolo e il popolo e la famiglia a Municipio Roma X intanto saluto Roberto Bruno Giovanni Amoroso Vittoria Polacci Marta Dondoli le tante amiche e i tanti amici che sono arrivati alla conclusione di questa diretta di oggi domani comunque torno a stampa il Vangelo come sempre alle otto e qualche minuto c'è anche Francesca Patuzzi che vedo tra noi mi fa piacere salutare tutti voi Ottavio Deludio dice ma che hai bisogno di una mano sempre bisogno ovviamente di tutto e per tutto soprattutto Ottavio devi contattare Vincenzo per il territorio di Ostia tuo fratello tua moglie i figli perché votino Giovanni Fiori e facciano una croce sul simbolo del popolo della famiglia Tiziana Caprioni mi conferma che ho le vostre preghiere e Dio sa se ne ho bisogno pregate davvero per me soprattutto preghiamo insieme il 13 di ottobre per ricordare l'ultima apparizione mariana a Fatima cento anni dopo insieme uniti nella preghiera come il popolo polacco per far capire ai franco di mare di turno che i cristiani non abbassano la testa neanche davanti alla televisione neanche davanti alla televisione grazie davvero a tutti voi la preghiera è alle 17.30 per venerdì sabato invece alle ore 11 vi aspetto tutti al teatro Sala Umberto di Roma teatro dove ci vedremo con Costanza Emiliano padre Maurizio Botta Marco Scicchitano e il sottoscritto per la presentazione ufficiale romana di o capiamo moriamo e per il ritorno per la prima volta unica sul palcoscenico dei quattro moschettieri dunque segnate sabato ore 11 via della mercede 50 teatro Sala Umberto vi aspetto davvero tutti molto numerosi un abbraccio a Maria Letizia Quattrini a Orazio Filippelli a Barbara Figus a Cristi Ross Don Francesco Colamonaco Alberto Leo ecco Nicola Di Matteo che chiede preghiere anche per sé e ovviamente preghieremo anche per il nostro coordinatore nazionale Anna Ciappa Paolo Campisi Mauro Chialastri Elisa Visani da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti l'appuntamento con Stampevangelo lo ripeto è sempre domani alle 8 e qualche minuto seguite comunque tutte le trasmissioni del palinsesto della PDF TV da Maria Di Nolfi una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti